Ciao a tutti dalla Tg regionale per sordi. Quote societarie e somme per 160.000 euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza provinciale di Siena a una società della Val di Chiana, attiva nel settore dello stampaggio di materiali termoplastici che non avrebbe provveduto ad effettuare il versamento delle ritenute certificate per l'anno d'imposta 2015. Dalle indagini partite in seguito a un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi è emerso che il legale rappresentante della società aveva omesso i versamenti delle ritenute IRPEF e delle relative addizionali. Allo scopo di consentire alla società una forma di autofinanziamento. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha quindi disposto il sequestro diretto corrispondente alle somme sottratte all'erario. Si aggirava in via Pistoiese alle 8.30 del mattino con dentro lo zaino oggetti da scasso ma è stato notato dagli agenti di una volante ieri sera che lo hanno fermato. Si tratta di un 25enne italiano residente a Pistoia, pregiudicato per reati di varia natura. Nello zaino i poliziotti hanno trovato due tronchesi. L'uomo a cui è stato consegnato un foglio di via da Prato è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Ho visto le mie due figlie sdraiate sul lettino dell'obitorio una accanto all'altra. Sembravano due angeli addormentati. Io lo so, andranno sicuramente in paradiso ma intanto spero che qui sulla terra sia fatta giustizia perché quell'albero non doveva cadere addosso a loro. Era tutto marcio e doveva essere tagliato prima. Io non voglio accusare nessuno, ci sono le indagini per questo. Chiedo solo giustizia e verità. È il racconto del padre delle due sorelle torinesi di origini marocchine Malak e Giannat di 14 e 3 anni uccise domenica mattina in un campeggio di marina di massa dalla caduta di un albero sulla loro tenda. La famiglia di Riccardo Magherini, l'ex calciatore è morto la sera del 3 marzo 2014 durante un intervento dei carabinieri mentre veniva fermato in strada mentre dava in escandescenze ha denunciato il furto di un tabernacolo affisso a Firenze in Borgo San Frediano sulla chiesa del Cestello davanti a dove è stato ammazzato come scrive in un testo su Facebook il fratello Andrea Magherini rendendo nota la sparizione del manufatto è una cosa gravissima si legge ancora come famiglia sporgeremo denuncia contro ignoti a suo tempo nei pressi del punto in cui Riccardo era morto venne installata una sorta di nicchia per favorire il suo ricordo da parte di familiari, parenti, amici ma anche ignari passanti multe per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici lo prevede una disposizione del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che sarà applicata in caso di ulteriore aumento dei contagi Ghinelli ha specificato che sarà la polizia municipale a vigilare sulla corretta applicazione del provvedimento con multe per i trasgressori Il Tribunale Civile di Firenze ha dichiarato inammissibile la causa civile intentata dalla regione toscana per imporre al consorzio One Scarle Mobit attuale gestore del servizio di trasporto pubblico su gomma regionale il trasferimento immediato degli immobili e dei bus ad Autolinea Toscane S.P.A. a giudicataria della gara Il giudice avrebbe dichiarato di non avere titolo per decidere sulla questione considerata di competenza del giudice amministrativo Per Piombino nell'ultimo incontro che si è svolto in videocall organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico tra direzione aziendale Gindal e le organizzazioni sindacali nonostante anche allora l'azienda non presentò nessun nuovo piano industriale ad oggi trascorsi tre mesi non si registra nessuna novità in merito Riteniamo che il tempo sia scaduto e ravvediamo incapacità operativa sia del governo che della Gindal mentre come a Taranto anche a Piombino evidenziamo eventi e seri problemi legati alla sicurezza dei lavoratori così il segretario nazionale metalmeccanici Antonio Spera e il vice segretario con delega alla siderurgia Daniele Francescangeli ha preso regolarmente il via a mezzogiorno la prova di ammissione per veterinaria dell'Università di Pisa a Ponte d'Era in una tensostruttura appositamente allestita per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-Covid i posti disponibili sono 70 e 562 i partecipanti al test di ammissione sempre a Ponte d'Era il 3 settembre si svolgerà il test per medicina e chirurgia più odontoiatria l'8 settembre la prova invece per accedere a professioni sanitarie e il 16 settembre scienze della formazione primaria Saranno 12 film in prima italiana in concorso all'edizione 2020 del Luca Film Festival e Europa Cinema il Film Festival internazionale in programma dal 25 settembre al 4 ottobre tra Lucca e Viareggio le proiezioni del concorso avranno luogo presso il cinema centrale di Lucca e online su Più Compagnia la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze i film competeranno per il premio Miglior Film per un valore di 3.000 euro al regista che sarà assegnato da una giuria internazionale vedere il gran premio della Toscana Ferrari 1000 di Formula 1 che si svolgerà il 13 settembre sul circuito del Mugello costerà da 750 a 1.200 euro in totale sono 2.880 gli spettatori ammessi per la prima gara della categoria regina delle auto ospitata dall'autodromo di Scarperia i prezzi sono stati comunicati dall'autodromo oggi e saranno messi in vendita a partire dalle 18 sul circuito Ticket 1 meno proibitiva la spesa per assistere alle prove libere del venerdì 11 settembre e ora le previsioni del tempo per domani in Toscana poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio però sulle zone interne non si escludono isolati e brevi rovesci in Appennino i venti sono deboli i mari poco mossi le temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve aumento con punte di 26-28 gradi nell'interno per questa sera è tutto grazie per averci seguiti arrivederci